e buongiorno ragazzi buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video di sbam oggi cosa andremo a fare oggi andremo a vedere alcuni video quelli più particolari più strani più più nuovi che girano all'interno del mondo del web e quindi andiamo a vedere subito andiamo a vedere commentare cosa ci sono cosa ci ripropone questo nuovo mondo tutto bello vario pinto colorato andiamo con il primo video il primo video l'ho chiamato la la maga mutanda ma che sta a fare se sta a levare mutande dai cosi beh già sto fatto che si leve mutande così da dentro al pantalone beh che fa piano certo lui ovviamente non si è accorto di niente di niente si è accorto proprio ma perché sta a piacere che vuole fare lui non si è accorto di niente proprio ma perché ma perché vuole ma perché sta cosa sta mette mutande dentro alla bottiglietta ma lui ora ecco ora se ne è accorto ecco se ne è accorto adesso e non dice niente mamma mia raga che finzione mamma mia che finzione forca miseria oh ma perché ma perché sta mette mutande dentro alla bottiglietta ma perché ovviamente lui fa finta di dire no vabbè questa è proprio la finzione proprio più più finta più finta madonna mia è proprio fintissima sta cosa fintissima vabbè però io voglio capire perché sta a mettere mutande dentro alla bottiglietta perché poi c'ha gli occhi spiritati c'ha cioè se guardate c'ha tipo gli occhi spiritati come proprio così ma che sta a fa ah mo le ripiamo levo le ripia sega maga maga sim sala bim tiè tutta sgocciolata tutta cosa ma perché ma perché ma cioè ah quindi le ha lavate le ha lavate ma perché nella bottiglietta ah gliele la passa così tranquillamente la bottiglietta così tranquillamente beh più alla cartigenica no vabbè cioè vuole 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 asciugare mutande alla cartigenica no a parte il fatto che questo video è una finzione di quelle esagerate ma c'è il motivo di sta cosa cioè il motivo il motivo ora ci fa la palletta ci fa si rimette la mascherina beh e continua a palpeggiare a fare e cosare o si o si certo perché ora così con quella cartigenica rotolata le ha asciugate e ora se le mette se le mette se le mette a modi superman ma perché si è ripreso la bottiglietta lui cioè questo video ha tante domande tante cose ma ma perché lui si è ripreso la bottiglietta che schifo che schifo se le ripembe l'acqua nella bottiglietta che schifo no vabbè raga passiamo all'altro passiamo all'altro video passiamo questo l'ho chiamato il il wata 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 oppure il brusley dei poveri no perché questo personaggio già l'ho visto altre volte però questo video l'ho preso da uno degli ultimi video che ha fatto quindi vediamo come difendersi da un'aggressione da sei balordi in condizioni svantaggiate come ragazzi ma che volete nooo no no ragazzi che volete ti mettete insieme delle ragazzi ha rotto il neon oh no oh no oh no oh no oh no mi fa sta bagliacciata ha rotto pure hernea una rotta aspetta 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 raga devo vedere come finisce devo vedere come finisce aspetta aspetta come? aiuto aiuto piangi ora andiamo a trovare la tua madre che sono brave persone zico dammi i soldi dammi te Priscilla ce ne andiamo a mangiare abbiamo la cena pagata te ok randaggi subito psicologia partite prima se non sarete aggrediti se non ce la facciamo con le mani arrangiamoci con psicologia capito con psicologia con psicologia capito randaggi capito e poi è bello che si fa per difendere tutto e poi pensa pensa sta sognando pensa e viate preso a quello vabbè dai andiamo avanti raga questa è questa è l'auto ibrida cioè è ibrida ma non sa di esserlo ok però siccome non sa di esserlo lo andremo a vedere ok stanno a portare la barca dentro all'acqua per gommone che è legata a macchina però magari la macchina la sleghi ed ovviamente finisce come sarebbe dovuto finire ovviamente guarda non riesce ad uscire guarda non riesce ad uscire no vabbè e tutta la barca sta ancora legata alla macchina ma slega la barca slegala slegala ovviamente se non sleghi la barca la macchina finisce a fondo ben ti sta io a me ste cose me fanno proprio gode raga me fanno gode oh sono proprio contento gli sta bene oh che bello che bello la prossima volta slegherà la macchina eh e daje raga e daje ne vuole un vede in arto no basta così basta eh quindi abbiamo visto questi primi tre i tre video così che girano nel web eh alcuni bello psicologia quella macchina che scende quell'altra la finzione che se lave mutande dentro la bottiglia raga aaaaa vabbè vabbè ragazzi abbiamo visto questi tre tre fenomeni questi tre fenomeni perché così penso di poterli chiamare tre fenomeni eh quindi ci vediamo ragazzi al prossimo video e ricordatevi non l'ho detto inizio video ma lo dico adesso ricordatevi di iscrivervi al canale mettere la campanellina mettere like commentare condividere tutte le cose che non fate ma che dovreste fare eh ragazzi daje ci vediamo al prossimo video e mi raccomando ciao belli ciao 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 ciao